Buongiorno a tutti, bentrovati come ogni mattina, sempre un po' meglio, i numeri continuano a migliorare e speriamo che si riesca a farlo anche con questa riapertura sempre più graduale e sempre più aperta, tra virgolette, scusate il gioco di parole, e sperando che siano numeri reali e che corrispondano un effettivo miglioramento in questa lotta al coronavirus per tornare al più presto, in attesa di sapere il risponso del comitato scientifico sulla ripartenza del calcio, sulla ripartenza degli allenamenti collettivi, c'è il dibattito su un modello tedesco o meno, chiaro che se non si dovesse seguire il modello tedesco, come abbiamo visto in caso di positività, isola il positivo e non tutta una squadra in quarantena, ci possono essere possibilità di andare avanti con la stagione, se no, se si segue un altro modello e se in caso di positività si mette in quarantena tutta una squadra, non si può pensare di andare avanti perché bisognerebbe fermare di nuovo tutto il campionato, questo penso che sia il nodo cruciale tra la FIGC, la Lega e il comitato tecnico scientifico da capire e risolvere, anche se fino a che non ci sarà un vaccino la vedo comunque dura. Aspettiamo novità, nel frattempo l'Inter continua ad allenarsi, terzo giorno consecutivo, il secondo anche per Antonio Conte che nonostante la mancanza di tampone, sia lui che Marotta, anche Ausilio, sono presentati, si presentano quotidianamente da Piano Gentile per continuare la preparazione in vista di una ripartenza della stagione a debita distanza, seguono gli allenamenti che dirigono Pintus, il preparatore atletico, insieme ai vice di Conte, Sellini e Vanoli, in attesa di tampone che verrà fatto probabilmente nel fine settimana anche per non avere una via preferenziale in rispetto delle difficoltà di tutti quelli che hanno invece probabilmente il Covid e non riescono a fare il tampone e quindi per rispetto soprattutto in una regione, la regione Lombardia la più colpita dal coronavirus si attende e nonostante tutto però si continua a lavorare con allenamenti individuali, palloni, igienizzati, esercizi per lo più atletici in attesa di capire se si potrà ripartire anche con gli allenamenti collettivi il 18 di maggio settimana prossima, quindi ci aspetta un'altra settimana di allenamenti individuali che però potrebbero già dare dei primi benefici dopo questa ripartenza calciomercato la cosa più importante che mi preme oggi sottolineare è che stiamo vedendo un Inter sempre più forte nel senso che non molla in nessun modo dalle sue posizioni come abbiamo già visto anche l'estate scorsa nelle lunghe trattative, nell'abilità anche di riuscire a trovare sistemazione a tutti i giocatori in esubero e anche di arrivare agli obiettivi prefissati, Lukaku, Eriksen a gennaio e poi battendo la concorrenza di tutti i top club europei, Sensi e Barella anche lì con le intromissioni di Milan, Juve, Roma, insomma di tanti rivali e in questo senso l'Inter è molto ferma nelle sue posizioni prima di tutto perché non vuole fare nessuno sconto per i Cardi, è quello che abbiamo capito non vuole contropartite tecniche da inserire nell'operazione e pretende che il Paris Saint Germain paghi i 70 milioni stabiliti a fine agosto dell'anno scorso questo nonostante la crisi, nonostante dalla Francia continuino a sostenere che Leonardo voglia uno sconto crisi e che voglia provare a inserire delle contropartite tecniche però non interessano, nel senso che non servono, sono i ruoli già coperti e quindi i nomi che sono venuti fuori di Draxler e anche di Leandro Paredes seppur giocatori interessanti però all'Inter non avrebbero un posto fisso e non sono gli elementi che servono per completare la rosa di qui il rifiuto di Antonio Conte è un Inter che avendo già prestato gratuitamente il giocatore e un giocatore che abbiamo visto comunque andare in gol più e più volte sia in Champions che in Ligue 1 nonostante poi gli ultimi mesi un po' fosse finito per problemi con l'allenatore un po' troppo spesso in panchina l'Inter considera già lo sconto di averlo fatto prestando i cardi per tutta la stagione quindi da questo punto pretende che da qui a fine maggio ormai non è che manca poi molto in questi ultimi 20 giorni si vada a riscattare e a pagare il pattuito per dare così poi la possibilità di iniziare il mercato in entrata i segnali sono comunque positivi però la trattativa non sarà semplice vedendo anche la fermezza dell'Inter che così rimane forte anche nelle sue richieste al Barcellona per Lautaro Martinez dalla Spagna continuano a insistere leggiamo subito le prime pagine sia del mondo deportivo che di sport i giornali catalani vicini ai Blaugrana in prima pagina sul mondo deportivo ci sono sia Pjanic che Lautaro che secondo il giornale avrebbero già dato il loro ok il loro sì e il club catalano sarebbe ottimista di andare a firmare questi due giocatori con la notizia che l'Inter sta cercando un altro nuovo 9 per la vendita di Lautaro e l'abbiamo già detto ci sono stati dei contatti importanti sul fronte Timo Werner un giocatore che l'Inter vorrebbe raggiungere non pagando interamente la clausola recessoria che ha fino alla metà di giugno del valore di 50 milioni vorrebbe però inserire Valentino Lazzaro per abbassare la quota cash da dare all'Ipsia su sport invece la notizia è differente la prima pagina è per Pjanic finalmente ci danno un po' di trego ma poi c'è in taglio basso la notizia che l'Inter vorrebbe Arturo Vidal nell'operazione Lautaro valutato 15 milioni è quello che sosteniamo da tempo non di più se no non interessa neanche Vidal così come non è che scaldino molto le contropartite offerte dagli spagnoli l'abbiamo detto Semedo e Emerson Royal i due terzini possono essere elementi interessanti però il primo viene valutato 45 milioni quindi assolutamente no il secondo è abbastanza una scommessa e quindi si preferisce e non ci si sposta da un assegno di almeno 80-90 milioni al di sotto l'Inter non si vuole neanche sedere al tavolo nonostante insomma leggendo anche i giornali spagnoli sembra di aver capito che Lautaro il suo ok l'abbia già dato ai 10 milioni di ingaggio offerti dal Barcellona e sono una cifra naturalmente che l'Inter non può pareggiare ma anche come vi dicevo che Lautaro deve dimostrare di meritare ha fatto sì una grande prima parte di stagione però diciamo che dalla espulsione con il Cagliari dal suo ultimo gol il 26 di gennaio è un po' sparito dai radar vuoi le due giornate di squalifica vuoi tutte le voci di mercato che hanno iniziato a distrarlo pesantemente vuoi il coronavirus e le preoccupazioni che sono iniziate a circolare dopo i primi casi e quindi c'è stato questo stop e questa astinenza da gol del giocatore ultime notizie su Sport Mediaset prima di passare ai giornali in edicola Higuain in ritorno slitta ancora la Juve gli concede più tempo ancora non torna poi asse Milano-Brescia tonali sulla scia di Pirlo Altobelli e Beccalossi si chiede il portale di Sport Mediaset la trattativa tonali sull'asse Milano-Brescia Inter ricordi Pirlo, Altobelli e Beccalossi i nerazzurini interessati al centrocampista hanno già chiuso diverse operazioni storiche con le rondinelle ma non sempre è andata bene con quel piede educato quella visione di gioco già matura malgrado i vent'anni quella completezza che gli permette di giocare praticamente ovunque in un centrocampo a tre Sandro Tonali si è conquistato le copertine in Serie A anche se la sua squadra di Brescia ha sempre navigato nei bassi fondi l'Inter infatti è fortemente interessata al calciatore Antonio Conte come demonstra nei casi Barella e Sensi non ha problemi a far crescere i giovani col lavoro di campo il centrocampista che nel fisico ricorda Andrea Pirlo avrebbe già detto un sì di massima ai nerazzurri tuttavia c'è da imbastire una trattativa che vada oltre i primi contatti tra le società e poi appunto si ricordano gli affari Pirlo e poi Spillo e Beccalossi che dal Brescia arrivarono all'Inter furono protagonisti dello scudetto della Stella 79-80 e poi insomma Tonali potrebbe seguire questa scia così importante l'abbiamo detto l'offerta dell'Inter anche qui inserire un giovane Pinamonti ma anche Pirola potrebbero essere i due elementi che interessano si parla anche di un prestito di esposito per crescere in quel di Brescia e abbassare quei 50 milioni che vuole Cellino sarà un po' diciamo la caratteristica del mercato quanto mai sarà fondamentale per tutti questi scambi quindi anche l'ok di Antonio Conte e la sua presenza importante nelle trattative di mercato come sempre è stato ma sarà ancora un po' difficile parole anche di Massimo Morati ieri sera la domenica sportiva per l'Inter immagino sia qualcosa di finito riferendosi ai Cardi sarà il Paris Saint Germain a decidere di tenerlo o scambiarlo rimane sempre in pista anche la possibilità di uno scambio poi con la Juventus tra francesi e bianconeri Lautaro sarebbe ottimo tenerlo non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale è quello che pensa Massimo Morati andiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport naturalmente la ripartenza sulle prime pagine la fa da padrone con la risposta che si attende per riprendere anche gli allenamenti collettivi e così come si sta decidendo di fare per cinema e teatri e quant'altro anche per il calcio serie A paletti e dubbi allenamenti slitta il sì i medici col positivo squadra in quarantena come vi dicevo sarebbe molto complicato andare avanti con questa decisione protocollo per il campionato i nuovi contagiati in Germania hanno frenato gli scienziati meno dibattiti è ora di decidere l'intervento di Gianfranco Teotino e poi ma quanto valete il titolo principale doveva essere il loro anno ora se si riparte sono sotto esame da Eriksen a Coulibaly da Glass Costa Correa Pachetà obbligati a svoltare ma quanto valete questi uomini si giocano la serie A mi sembra un po' anche ingeneroso mettere Eriksen insieme a questi altri giocatori avendo veramente essendo arrivato a fine di gennaio Eriksen avendo giocato una sola partita titolare non avendo neanche avuto il tempo di rimettersi in forma che è arrivato allo stop del campionato quindi paragonarlo a giocatori che invece hanno deluso e non sono alla prima stagione in serie A mi sembra un molto non così corretto pronti ripartenza a zero via dall'Italia da Douglas a Eriksen stelle in bilico addirittura in bilico Eriksen non ha fatto in tempo a incidere deve stregare Conte l'immagine che Chris Eriksen ha lasciato di sé quella notte dell'8 marzo a Torino non è stata il migliore possibile entra in campo a mezz'ora della fine più o meno insieme a Di Bala il secondo strappò la partita per la Juventus lui si intristì senza incidere poco per uno a cui l'Inter chiedeva il cambio di passo poco pure il tempo però Eriksen non è riuscito a fare innamorare nessuno è stato il colpo ad effetto della società ora davanti a sé 13 partite più le coppe per dimostrare di essere anche il colpo a effetto di Conte la carta sorpresa l'uomo che può spingere l'allenatore ad abbandonare quel marchio di fabbrica del 3-5-2 per sposare altro e proprio in questo senso vi posso dire che Conte proverà il cambio di modulo proverà il 3-4-1-2 e quindi di far giocare nella sua posizione più vicino alla porta Eriksen in versione trequartista in modo da permettere di sprigionare tutta la sua qualità gli assist e i tiri in porta che abbiamo già in parte già visto la sua specialità protocollo il sì del comitato tra oggi e domani la quarantena allargata il nodo per l'ok agli allenamenti il via libera si fa attendere anche ieri la fumata bianca si è persa nella necessità di condurre altri approfondimenti e così il comitato tecnico scientifico del governo ha deciso di posticipare l'invio della valutazione al ministro Roberto Speranza sulla ripresa degli allenamenti degli sport di squadra il parere deve arrivare tra oggi e domani altrimenti ci sarebbe un problema di tempi anche perché ci vuole un margine di tempo per tradurre le raccomandazioni nel protocollo e perplessità gli scienziati devono occuparsi dell'ok agli allenamenti collettivi quindi del meccanismo esami preventivi ritiro blindato senza contatti con l'esterno negativizzazione di tutto il gruppo si punta sull'accuratezza degli esami l'auto isolamento del gruppo solo nella fase successiva si potrà parlare di partite e di ripresa del campionato con un nuovo protocollo stiamo a vedere poi probabile addio al Milan di Maldini fine corsa terminata l'attesa oggi Ibrahimovic torna alla base e i giorni del toro è il titolo della pagina dedicata all'Inter Lautaro a 10 milioni di motivi no Inter a Vidal nell'affare e questo non ci risulta dal Barca ingaggio top il cileno nel mirino ma extra trattativa Werner il preferito Mertens obiettivo Cavani stuzzica non più di tanto come vi ho sempre detto pallal toro che suona un po' come il rito scaramantico della galleria Vittorio Emanuele ma di sicura fondamenta più solide un rituale anche questo intendiamoci la situazione per intendersi non è in discussione che Lautaro dica sia l'ingaggio del Barcellona anzi quell'offerta è stata già recepita in maniera favorevole dai suoi agenti piuttosto va capito quanto l'argentino deciderà di forzare la mano con i Nerazzurri non è automatico che avvenga o almeno non è che avvenga adesso non siamo a fine campionato lontano dai riflettori piuttosto siamo di fronte alla possibilità concreta che la Serie A riparta e una rottura del rapporto non farebbe gioco a nessuno in questa fase né al calciatore neppure all'Inter che su Lautaro deve comunque poter contare fino a fine stagione magari anche se virtualmente già venduto queste sono comunque ore calde lo conferma anche Victor Blanco presidente del Racing a squadra del Toro ho parlato con persone vicine all'Autaro e mi hanno confermato che i Blaugrana lo seguono con interesse di più lo trattano non lo seguono il Barça ha comunicato all'Inter di voler definire l'affare entro metà mese o giù di lì siamo già in questi giorni mi sembra come vi ho detto inverosimile entro questa settimana fretta che per la verità non dispiace neppure all'Inter anche per capire bene quale mercato impostare qualche punto fermo va fissato primo l'Inter ha capito che il Barça non pagherà la clausola da 111 milioni di euro non è quella la modalità scelta secondo il club nerazzurro ha già rifiutato 80 milioni ma rotte ausilio vogliono che la parte contante non scenda sotto quota 90 che questa venga aggiunta una o due contropartite i nomi sono sempre i soliti se medio il brasiliano Emerson Roy al terzo punto dell'accordo difficilmente farà parte Vidal non perché il cileno sia fuori dai radar tutt'altro quanto perché l'Inter non ha interesse inserirlo nella trattativa per Lautaro e questo comunque anche qui siamo di parere discordante la fretta si diceva il mercato dell'Inter prenderà una direzione a seconda che ci sia o meno Lautaro in questo senso è complicato in seguimento a Werner avrebbe maggiori chance giocando d'anticipo sul resto d'Europa principalmente su quel Liverpool che da tempo flirta col tedesco ma che non ha ancora avuto la forza di affondare il colpo Timo Cavani Mertens sarà l'attacco della prossima stagione prima si capisce come meglio è con Cavani che vi ho detto che comunque non è uno dei nomi che l'Inter segue in questo momento un'opzione nel cassetto ma troppo cara anche in rapporto all'età del giocatore che vuole almeno 10 milioni a stagione allenamenti senza sosta e la squadra è al completo Conte guida i suoi davanti a Marotta per ora non è previsto giorno di riposo nel fine settimana i nuovi tamponi sapete qual è un proverbio assai chiaro Antonio Conte uno di quelli che ogni tanto cita pure in conferenza stampa questo l'occhio del padrone ingrassa il cavallo è impossibile allora far restare a casa l'allenatore dell'Inter non c'è tampone che tenga la necessità di guidare i suoi è più forte anche della preoccupazione sanitaria che pure resta notevole anche in prospettiva ma la macchina si è messa in moto e bisogna salire a bordo così è andata anche ieri per il terzo giorno di allenamenti individuali ad Appiano Gentile c'era Conte ancora una volta a distanza fisica ma non psicologica e col tecnico c'era anche Beppe Marotta per una domenica lavorativa da fuori porta pure lui alla pinettina per il secondo giorno di fila palloni sanificati e questo quanto per la Gazzetta dello Sport andiamo al Corriere della Sera Corriere dello Sport prima è lo Scudetto dei Nervi intervista esclusiva a Fabio Capello dallo stop allo sport fino alla ripresa del campionato ecco tutte le verità del tecnico via libera ai teatri oggi tocca al calcio una nuova speranza il titolo editoriale del direttore Zazzaroni sbarca Ibrahimovic il Milan si riaccende poi in Francia la furia del Lione che chiede di tornare indietro Fabio Capello temo più gli infortuni del virus abbastanza discutibile questa dichiarazione poi gli scienziati pronti a dare campo libero in attesa una risposta la FIGIC sta già lavorando alle norme di sicurezza per la ripresa del campionato rinvio per l'approvazione del protocollo degli allenamenti ma l'esito non sembra in dubbio più complesso il tema gare lo sport deve attendere il teatro può ripartire ok del comitato a show e concerti dalla prima settimana di giugno ovviamente col pubblico in sala anche queste decisioni ci sembrano abbastanza discutibili Scudetta Ferragosto settimana decisiva UEFA incalzata al termine il 2 agosto può slittare FIGIC e Lega spingono per avere più tempo da oggi a giovedì in pochi giorni in palio il futuro del calcio no a un altro ritiro i dubbi dei calciatori vivrebbero ancora blindati come accaduto durante il lockdown per poi giocare ogni tre giorni non sono convinti di accettare ma in ballo c'è il posto di lavoro poi in Germania il Dresda non ferma la Bundespring due settimane di quarantena per la Dinamo sereni finiremo il campionato c'è ottimismo nonostante l'indice RO sia risalito il club di B sia stato isolato andiamo alla pagina dedicata all'Inter sul caso Chiellini il calcio si spacca Felipe Melo non ha carattere Tardelli duro così crea odio Vieri doveva parlare in faccia Cassano Stimo Chiellini è un ragazzo favoloso si ha detto certe cose avrà i suoi motivi Balotelli lo conosco superficialmente è un bambino il brasiliano e la gara di Champions League vinta a Istanbul Godo ancora Vieri Balotelli Giorgio lo avrebbe dovuto attaccare al muro in nazionale le cose in faccia ma quello che vi ho detto è che in un momento così difficile per il paese in cui il calcio deve dare l'esempio deve ritrovare deve dare valori positivi sprizzare odio anche se solo sportivo e dichiarazioni del genere per me non sta né in cielo né in terra parere personalissimo penso che tanti di voi siano anche d'accordo adesso questo anche indipendentemente dai colori e dalla maglia pagina dedicata all'Inter e l'ora di Sensi potrà recuperare il tempo perso ai box e l'Inter lo riscatterà l'ex Sassuolo sarà l'uomo in più di Conte idee fresche in regia con Brozo Barella e il Jolly Eriksen e poi Zanetti ricorda l'addio al calcio che emozione San Siro pieno d'amore per me leggiamo come rigio di lavoro anche quello di ieri da Piano Gentile con l'Inter suddivisa in tre gruppi per gli allenamenti all'aperto nel rispetto alle norme di sicurezza un protocollo rigido che verrà osservato almeno per un'altra settimana con sedute che rimangono facoltative mentre oggi la preparazione individuale continua Conte aspetta solo di poter svolgere il tampone e ottenere il via libera per un contatto un po' più ravvicinato con il gruppo che non vede da due mesi fisicamente ma solo in chat intanto ieri a Via Zanetti su Twitter Amar Cord ha riavvolto il nastro al 2014 nel giorno del suo addio al calcio giocato dopo una carriera strepitosa col nerazzurro impresso nel cuore l'emozione ancora forte nel ricordare il saluto ricevuto da San Siro dall'Inter e da tutti gli interisti il commento dell'argentino ritiratosi a 41 anni e dopo 19 stagioni disputate con la maglia nerazzurra leggiamo l'articolo su Sensi i cinque cambi faranno gioco a Conte poco ma sicuro togliendogli pure l'imbarazzo di dover trovare una collocazione decisa e precisa a Eriksen la miscela giusta del centrocampo può far quadrare definitivamente i conti c'è un quartetto tutto qualità e sostanza sul quale l'Inter investe oltre al danese anche Sensi Barella e Brozovic un reparto di giocatori assolutamente complementari allora per il ragazzo prossimo a riscatto dal Sassuolo si presenta poi la grande chance di rilancio gli infortuni hanno inciso su Stefano Sensi che nel frattempo era entrato anche nel giro della nazionale di Mancini non tutto il male viene per nuocere a proposito del rinvio di un anno dell'europeo mettiamola così il play dell'Inter potrà arrivarci con ambizioni da protagonista fermo restando che il suo futuro è nera azzurro non ci sono dubbi confermava anche ieri i carnevali uomo mercato del Sassuolo l'intesa è già stata raggiunta un anno fa quando l'Inter soffiava Sensi al Milan e si accordava col club emiliano per un prestito di un anno con l'impegno a riscattare il giocatore un po' come è accaduto l'estate precedente per Politano ma stavolta con un Marotta in più a garantire gli ottimi rapporti con il Sassuolo Sensi aspetta solo di poter tornare ai suoi livelli di inizio stagione riabilitare Sensi è soltanto una delle note che si è appuntato Conte per la ripresa la continuità di Barella le geometrie di Brozovic fanno il resto insieme alla concreta intenzione di appiccicare addosso a Eriksen l'etichetta di giocatore decisivo con un posto da titolare in allegato il calendario della ripartenza sarà compresso bisognerà uscire dai blocchi senza alcuna titubanza poter dar fondo a tutte le risorse allargare le rotazioni e modulare un Inter che in mezzo al campo si fa rispettare sarà la missione il mese e mezzo di campionato che ancora manca una finestra estiva magari improvvisata ma che può raccontare molte verità soprattutto per questa Inter che mettendo Antonio Conte in panchina ha scelto di affidarsi all'architetto migliore questo è il Corriere dello Sport chiudiamo i giornali sportivi con tutto sport aspettiamo che carichi Ibra torna Iguain no e poi Cellino clamoroso dietro front si allarga al fronte del Sì il presidente del Brescia ha cambiato idea bisogna ricominciare altrimenti falliamo tutti e poi su Chiellini commosso da Coulibaly ancora spazio alle dichiarazioni del suo libro Arthur Juve nuovi contatti prime aperture per lo scambio con Pjanic e poi andiamo alla pagina dedicata all'Inter Ericsson più il 3412 l'Inter cambia mercato il budget sarà concentrato sulla ricerca di due esterni titolari in mezzo serve puntellare ecco perché è risalito Vidal Sensi vale per due vice del danese Edi Brozovic in attacco tutto passa da Lautaro ma col nuovo sistema servirà un bomber accanto a Lukaku Beppe Marotte e Ausilio stanno valutando pro e contro economici e tecnici di vari profili a centrocampo dai super sogni Pogba Milinkovic Savic ai giovani talenti Tonali e Castrovilli piacciono tutti ma è evidente che sia il triangolo Barella Brozovic Eriksen con alle spalle un elemento come Sensi dovesse trovare la quadra diventare un'arma dell'Inter nei prossimi mesi a quel punto il club avrebbe minore esigenza di investire in un top player a centrocampo che inevitabilmente toglierebbe spazio a uno dei titolarissimi però mio parere che serva un po' di fisicità lì in mezzo e non dimentichiamo la possibilità di scambio Tolisso Perisic col Bayern di Monaco Conte è tornato a battere il ferro per il suo pupillo Vidal il giocatore che non costerebbe molto che migliorerebbe comunque il centrocampo senza per forza togliere minuti agli altri con l'esplosione di Eriksen la dirigenza nell'azzurra potrebbe concentrare le forze sui ruoli sugli esterni Chiesa Marco Salonso ed Emerson e poi nel caso di partenza di Martinez Werner o Aubameyang poi Inter Chelsea per Mertens l'offerta di Suning biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni stagione bonus alla firma pure i Blues in corsa da una parte il cuore dall'altra il Chelsea l'Inter ha principalmente due rivali nella corsa per arrivare a Mertens l'obiettivo numero 1 di Marotta sul mercato dei parametri 0 due alternative che però nei fatti potrebbero combaciare perché il cuore per Mertens significa Napoli dunque in caso di addio non tradire l'amore l'affetto di una tifoseria che l'ha eletto a re in questi anni sotto il Vesuvio incontro avuto poi con De Laurenti non ha portato al rinnovo che si pensava fatto e quindi l'opzione Inter con l'offerta 5 milioni ad annata più bonus alla firma cifra importante progetto ambizioso che offrirebbe a Mertens l'opportunità di rimanere in Italia in seguire con lo scudetto che ha solo parzialmente sfiorato con il Napoli col fattore Lukaku che potrebbe essere fondamentale per convincerlo a scegliere l'Inter e che però deve fare i conti con il Chelsea e con Marina Granoscaia che è molto interessata all'attaccante del Napoli andiamo ai giornali politici Corriere della Sera e Repubblica prima di chiudere Corriere della Sera naturalmente le conseguenze il coronavirus migranti elite per il decreto un altro rinvio e Gualtieri annuncia uno sconto sull'Irap vertice di maggioranza nella notte poi il ritorno di Silvia Romano tra l'altro tifosa dell'Inter ho pianto per un mese ora mi chiamo Aisha il decreto rilancio dell'economia è stato rinviato nel governo restano alcuni nodi da sciogliere come quello della regolarizzazione dei migranti andiamo all'interno del Corriere della Sera convertita all'Islam una libera scelta il ritorno e il racconto di Silvia Romano verso casa l'orgoglio dei genitori lei è una grande rispettare le sue scelte e poi nuovi contagi sotto quota 1.802 il dato più basso da oltre due mesi i numeri che ci danno forza per sperare nella ripartenza il 50% dei nuovi casi in Piemonte e in Lombardia dove tornano a crescere i pazienti in terapia intensiva scendono finalmente i decessi a una cifra di 165 per un totale però pensate di 30.560 l'incognita dell'aria condizionata il virologo un rischio può esserci ma è sufficiente la manutenzione ritirata la norma sul condono arriva lo sconto IRAP per le aziende le misure economiche altre 9 settimane di cassa integrazione fino al 31 ottobre sarà velocizzato il pagamento per tenere i lavoratori in azienda lo Stato potrebbe farsi carico dei costi di aggiornamento poi la lite sui migranti e 20.000 italiani che cercano nelle campagne un nuovo lavoro questo quanto su il Corriere della Sera in sintesi andiamo a Repubblica prima dei saluti velocemente la prima pagina Silvia è stata tradita ascoltata in procura la Romano racconta 18 mesi prigionia qualcuno indicò ai sequestratori il villaggio dei bambini in Kenya nessuna violenza 6 covid dissero se non scappi vivrai la conversione chiesi un libro era il Corano mi ha salvato un diario così funzionerà l'Italia che riparte il governo il governo accelera sulla ripartenza lunedì 18 maggio verso l'apertura di bar ristoranti negozi al dettaglio parrucchieri e centri estetici sia alle seconde case ma nella stessa regione il racconto di Silvia le prime pagine dedicate alla sua liberazione e poi il 18 maggio via Libra la grande riapertura sia alle seconde case spiagge ecco le regole certificato sierologico per sforzarsi in vacanza ristoranti tavoli a due metri negozi sanificati ogni giorno dal parrucchiere uno alla volta queste tutte le misure in vista di una riapertura totale che speriamo arrivi presto però in totale sicurezza con grandi precauzioni che anche regole chiare e certe per tutti i vari esercizi che vanno a riaprirsi per ora vedo anche ancora troppa confusione e non bisogna assolutamente allentare la presa per cercare di battere definitivamente questo maledetto coronavirus grazie ancora a tutti per l'attenzione